Ma allora c'è ancora qualcuno che sta guardando Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video, io sono Blink46 e finalmente sono tornato con un nuovo video Oggi parleremo di questa cosa che vedete qui dietro di me, ovvero la sedia della Thermaltake Uno dei primi modelli che sono andati a proporre e questa è l'XC500 La versione Comfort che è decisamente una sedia premium Sono rimasto veramente sorpreso ma vedrete tra qualche minuto effettivamente di che cosa si tratta Prima di iniziare con il video ci tengo a rispondere a un paio di domande Visto che mi avete chiesto miliardi di volte chi avesse vinto la scheda video, quando sarebbe stata fatta l'estrazione eccetera Purtroppo non lo sapevo nemmeno io di preciso e in ogni caso la scheda è stata vinta da Daniele M È già in spedizione, auguri Daniele, goditi questa 1060 Come seconda cosa invece mi avete chiesto in centinaia di parlare di un certo sito Purtroppo non ho voglia di fare video contro, non ho voglia di perdere tempo eccetera Anche perché un mio amico Toto ha fatto un video dove spiega benissimo questo argomento E sono anche stufo della quantità innumerevole di messaggi che mi arrivano riguardanti questo sito Quindi veramente non ne posso più Vi invito a passare a vedere il video di Toto visto che ha fatto una spiegazione perfetta Perché veramente non ne posso più di domande su questo sito, per piacere ragazzi Lascio sia in descrizione che nelle annotazioni il link al video Benissimo, adesso parliamo di questa sedia Come vi ho già detto è uno dei primi modelli proposti da Thermaltake come sedia da gaming Hanno deciso di realizzare due serie per il momento, una chiamata Fit e una chiamata Comfort Il modello in questione è l'XC500, ovvero il modello Comfort colore nero Devo dire che ho già provato parecchie sedie sia da ufficio che da gaming eccetera E ormai sto iniziando a capire che cosa guardare precisamente in una sedia E ovviamente sto diventando sempre più critico su quest'ultime Come prima cosa appena è arrivato il pacco sono andato insieme a Francesco ad aprire il pacco e a montare la sedia velocemente Devo dire che l'assemblaggio è stato veramente semplice, intuitivo, era tutto già fornito all'interno della scatola E ci abbiamo messo qualche minuto soprattutto perché eravamo in due Anzi c'è una cosa che devo dire Sono rimasto un attimo sorpreso del fatto che il cuscino lombare non fosse fissato in qualche modo alla sedia Personalmente a me non interessa più di tanto perché non utilizzo il cuscino lombare Ma per chi dovesse essere interessato è una cosa che sicuramente va tenuta in considerazione Anche perché l'unico modo per far stare il cuscino in posizione è metterlo leggermente inclinato Altrimenti continua a cadere in avanti Come stavo dicendo una volta finito l'assemblaggio della sedia il primo tentativo ovviamente è stato sedersi La sensazione lì è stata stranissima La seduta è molto rigida, è fatta in memory e dopo averla usata per un po' di settimane devo dire che mantiene benissimo la seduta Quindi per sessioni prolungate di utilizzo diventa veramente comoda Mentre altre sedie tendono a schiacciarsi per poi andare a sedersi praticamente sulle viti o sulla struttura della sedia Con questa non succede, a primo impatto appena ci si siede può sembrare troppo rigida Ma vi assicuro che nell'arco di 20 minuti o poco più risulta veramente comoda Come prima cosa vi ho detto mi sono seduto e ho tentato di fare questa cosa qui Ovvero abbassarmi all'indietro Vi assicuro è stata una delle cose più strane che io abbia mai fatto E una volta andato all'indietro completamente la scena è stata questa Ho continuato a girare come un deficiente a testa in giù praticamente È una sensazione veramente strana perché si va praticamente a più di 180 gradi all'indietro e non si cade Io sono alto 1,83 per chi dovesse essere interessato e peso 75 kg Quindi fatevi voi un'idea Ho fatto provare anche persone più alte o più pesanti e in ogni caso non sono cadute Quindi devo dire che come stabilità e qualità di costruzione è veramente veramente ottima Devo dire che la qualità costruttiva generale è veramente buona E non ci si può lamentare di nulla in quel campo La seduta è molto larga quindi sia per chi ha il un po' più grosso che per chi magari è più magro eccetera Sicuramente per le persone un po' più pesanti risulterà più comoda all'inizio Per le persone un po' più leggere può risultare un po' meno Ma in ogni caso si andata molto bene con il calore e prende la forma velocemente Il cuscino lombare come vi ho detto è sganciato quindi bisogna andare a posizionarlo nella parte posteriore della schiena Io personalmente non lo utilizzo perché non lo so non lo trovo proprio comodissimo Ma in ogni caso so che invece tanti altri lo utilizzano perché magari gli fa venire meno mal di schiena o altri motivi Parlando di braccioli la regolazione è completa Si possono modificare in altezza, in profondità, in larghezza, in inclinazione, proprio in tutte le posizioni L'unica cosa è che sono leggermente laschi una volta posizionati Non è la fine del mondo però su un prodotto di questa fascia di prezzo eccetera Sarebbe stato più piacevole a mio parere avere una cosa molto più solida da quel punto di vista Perché come qualità di costruzione eccetera è tutto perfetto, come regolazioni è perfetto Ma devo dire che quel piccolo lasco che c'è sicuramente non è piacevole Parlando di regolazioni devo dire che è stata una delle prime sedie che ad altezza massima non mi permette di toccare per terra con i piedi E vi assicuro che è una sensazione strana per una persona alta Nella sedia sono presenti tre leve per la regolazione Una per l'inclinazione dello schienale Una per regolare l'altezza della seduta E un'altra per bloccare o meno l'inclinazione della sedia generale Infine sotto la sedia c'è una manopola per regolare la forza o il peso necessario per andare all'indietro con la sedia Infine voglio darvi una opinione generale di questa sedia Personalmente mi è piaciuta veramente tanto e sono stato sorpreso dalla qualità costruttiva e dalla comodità Essendo il primo tentativo devo dire che sono riusciti al 100% bene Come vi ho già detto ho solo alcune piccole annotazioni come possono essere i braccioli O magari il cuscino che non avendo modo di essere bloccato cade e rimane appoggiato sulla sedia In ogni caso come qualità generale è decisamente buona, la finitura è ottima Personalmente il carbonio come finitura mi piace parecchio quindi non posso che essere contento L'unico logo che si trova è sul cuscino e sotto il cuscino con il TT di Thermaltake In descrizione non posso dirvi che vi lascio il link ad Amazon per acquistare questa sedia perché non è ancora disponibile Vi lascio direttamente il link a TT Racing dove potete trovare tutti i maggiori dettagli perché è disponibile anche in altre colorazioni Ovviamente in descrizione trovate tutti i vari link per i social, trovate anche quello di Twitch perché andrò in live la sera E direi che da Blink è tutto e ci vediamo con il prossimo video Ciao ciao